Tra qualche mese comincerà la bella stagione, quindi si potrà andare a fare delle passeggiate e dei trekking. Quindi il CAI, la sezione Isola Dischia del CAI, presenterà quello che è proprio il programma della sienteristica dei trekking per la primavera. Ne parliamo con Francesco Mattera. Sì, allora, intanto vi do appuntamento il 7 febbraio, mercoledì 7 febbraio, l'ore 18 al Torrione, presso il Torrione di Forio, proprio per un incontro riservato ai soci, ma non solo, a chiunque abbia anche voglia di conoscere il mondo del CAI qui a Ischia. Un incontro appunto per presentare il programma delle attività di quest'anno, che per la verità è già cominciato, perché le prime attività si sono svolte alla fine delle feste di natalizie, per cui tra il 6 e il 7 gennaio già sono state le attività in programma e già da febbraio ne sono previste delle altre. Quindi il 7 febbraio appuntamento all'ore 18 per conoscere il programma completo di tutto l'anno e ovviamente al di là delle attività escursionistiche, quest'anno verranno proposte anche delle attività extra isolane, quindi si sta già lavorando in tal senso, che coniagano l'aspetto escursionistico anche con quello dell'arrampicata, perché ricordiamo l'anno scorso, il 2017, ha visto la nascita di due nuove realtà della sottosezione, uno è il gruppo TAM, tutela ambiente montano, e l'altro è il gruppo Roccia, quello per l'arrampicata, e quindi anche queste due realtà hanno fatto delle proposte di attività all'interno del calendario, già abbastanza fitto, che è quello regionale del CAI, in cui sono inserite anche le attività ischitane. Attività che si svilupperanno anche poi insieme alle altre realtà isolane, quindi la Proloco di Panza, l'associazione Nemo, con cui collaboriamo oramai da sempre, anche per la manifestazione Andar per Sentieri, che quest'anno ci sarà dal 25 al 30 aprile, e quindi c'è tutto il discorso preventivo, di controllo, un po' di manutenzione, Pulizia del territorio, esattamente, quindi anche quelli solitamente sono appuntamenti aperti, diciamo, in primi sei soci, per un semplice motivo, che riguarda la copertura assicurativa. Chiaro che chi è socio CAI, le attività le fa in maniera gratuita, perché nella quota annuale di iscrizione è compresa la copertura assicurativa. I non soci ovviamente non hanno questa copertura assicurativa, per cui per partecipare all'attività è necessario attivarla nel caso. Quindi il 7 febbraio, per chiunque voglia avere anche altre informazioni legate al CAI, alle attività che facciamo, al Torrione all'ora 18.